Salve a tutti, qui Antonio Cianci, il raccata film per voi in collaborazione con CineWriting.it con un'altra recensione in anteprima. Una saga che si è sempre contraddistinta per la sua componente action elettrizzante e mai ripetitiva, torna sul grande schermo. È l'anno di Mission Impossible Fallout, con la particolarità che ritroviamo in cabina di regia lo stesso regista e sceneggiatore di Rogue Nation, Christopher McQuarrie. Stiamo parlando di un sequel a tutti gli effetti che riprende le fila della trama affrontata nel precedente capitolo per ampliarne lo sviluppo e inserire nuovi personaggi che possano scombinare gli equilibri ristabiliti. Si sono superati, è il caso di dirlo, una scrittura molto efficace che sa mettere in risalto gli aspetti chiave che caratterizzano la saga, che siano travestimenti, ostante e mirabolanti, per poi mescolare l'ordine di apparizione di questi senza risultare stucchevole o macchinoso. Un perfezionista dell'immagine, ecco cosa mancava nella formula dopo un primo iconico capitolo diretto da De Palma. E che passi in avanti sono stati compiuti, bisogna ammettere, per rafforzare il profilo dei protagonisti coinvolti, a partire da un itanant mai così tormentato, la regia appare ancora più solida, deve prodigarsi in riprese ad ampio respiro, meticolose e attente a non ripetersi. Un'organizzazione del lavoro da premiare senz'altro, anche perché hanno voluto contenersi con la computer grafica. Avete letto o già sentito tutti il paragone con Mad Max Fury Road? Fallout è il più riuscito fin d'azione dai tempi di Fury Road e non si hanno tutti i torti. Le parti più adrenaliniche devono essere orchestrate come una danza pericolante, che diventa dura lotta per la sopravvivenza. Grandi blocchi in cui avvengono i più folli stunt, lo spettacolo messo in primo piano e in maniera ossessiva. Una messa in scena quasi impossibile a livello logistico. Una scarica. È una scarica che può seriamente rimanerti impresso. La resa complessiva è in parte affidata all'attore di punta, Tom Cruise. A lui dobbiamo comunque stendere le lodi per aver compreso fino in fondo il funzionamento di un action che deve stupire, coinvolgere, tornare a meravigliarci. Veste anche i panni di produttore assieme a Gigi Abrams e con la loro visione d'insieme è possibile rinnovare un certo tipo di registro più incentrato sul pericolo reale. Quasi una versione altamente pirotecnica di un jackass, mi viene da dire. Ci si preoccupa maggiormente per l'incolumità degli attori in scena che si cimentano in acrobazie impensabili. Capita di reagire genuinamente a ciò che avviene sul schermo. Nel cast si aggiunge anche Harry Cavill, dall'universo supereroistico immerso fra green screen e ritocchi digitali, ricoprendo il ruolo di Superman ad una situazione molto più estrema e molto meno protetta. Un salto di qualità non indifferente ed è lui la chiave di volta che tenta, riuscendoci appieno, ad immettere un'energia palpabile, una tensione che viene giostrata con maestria e ricercata per rizza tecnica, potenziando quindi la componente spionistica ed investigativa. Un po' come è successo con Jeremy Renner in Protocollo Fantasma o Rebecca Ferguson in Ilsa Faust in Rogue Nation, rilanciare il franchise con un cast sempre aggiornato e in grado di tenere testa al cavallo di battaglia cruise. Il risultato, manco a dirlo, rimane su livelli di eccellenza rari di questi tempi, da godere nel formato più attrezzato possibile. Si gestisce una storia che si presta ad una durata importante, due ore e mezza, e la si infarcisce di caratteri in perenne conflitto, con una lunga distesa di azione incredibilmente complessa da portare in scena, come un imperdibile piano sequenza da manuale che non sto a rivelarvi nel dettaglio. I mezzi comunque ce li hanno, il budget pure, e non hanno paura di spenderli per regalarci la miglior montagna russa della nostra vita. Ecco cosa serve per ravvivere il genere, l'audacia, la temerarietà, mettersi in gioco e rompere gli schemi alzando l'asticella senza affidarsi troppo al supporto massiccio in CGI. Non si tratta soltanto di una minaccia su scala internazionale, ma di elementi che possono compromettere la psicologia di Tenant. È giusto ritornare a soffermarsi sul protagonista, ma non come uomo impavido e sempre operativo, ma volubile, con punti deboli scoperti che possono metterlo fuori gioco. Riprendere il pregio assoluto del terzo capitolo di Abrams, il focus su Ant, e dargli un nuovo lustro con l'apparato tecnico sofisticato di McQuarrie, molto curato e con inquadrature mai fuori posto. Quello che vi ritroverete al cinema dal 29 agosto è il miglior capitolo di Mission Impossible, nonché uno dei più riusciti fin d'azione dai tempi di The Raid Redemption e Mad Max Fury Road. Non vi sono dubbi a riguardo. Qui Antonio Cianci, il raccatafilm dalla redazione di CineWriting.it. Ha finito, un bel pollicione in alto se vi è piaciuto il video. Quanto lo state attendendo al film? Ci beccheremo comunque sotto nei commenti per opinioni, pareri e confronti. Un saluto, carissimi seguaci da Raccatafilm, ciao, alla prossima!